Eccoci finalmente arrivati alla partenza del nostro viaggio per Stoccolma e vi ricordo l'hashtag al Nobel con papà. Ah scusate, mia moglie, vi dispiace se rispondo un attimo? Sì, dimmi. Dove sei? Sono in macchina con papà e Lucrezia. Eh, buona quella. Siamo in viva voce. Ciao bella, dove stiamo andando? Stiamo andando a Stoccolma. Ah, la statuetta. È una medaglia. Questa sera siamo ospiti di un'amica di suo padre. Giovanni! Greta! Cari, 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 cari. Troppe cose non ti ho mai detto. Quanto sei semplice, ho fatto. Per me la fedeltà è importante. Ma una sana scopata è quasi sempre meglio. Questa è una foto di almeno 30.000 like. 3, 2, 1, almeno vi mettete lì a posto. Santana, dove siete? Siamo per arrivare a Copenagher. Ma che fate? Non vi abbracciate? Eh sì che ci abbracciamo. Ma è solo una curiosità che a questo punto è le città. Dove stiamo andando? Una sorpresa. Io sì. Quando ci vuole ci vuole? Che altro? No. È allora. No. 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 Mi